Nel 1976 a Toronto venne inaugurata la CN Tower. Con i suoi 533 metri di altezza era la struttura autoportante più alta al mondo. Seguiva la tradizione delle torri per le telecomunicazioni di Londra e Berlino rispettivamente la BT Tower e la Television Tower. Da allora il suo record è stato superato sia dalla Tokyo Sky 3 in Giappone che dalla Canton Tower in Cina. Oggi quindi è al terzo posto tra le strutture autoportanti più alte. L'architetto che l'ha realizzata è John Andrews insieme alla WZMH studio di architetti. I materiali che compongono la torre sono cemento e acciaio. Serve per le telecomunicazioni ma anche come attrazione turistica dotata di ristorante girevole. Osservando il disegno della torre ne possiamo ammirare la forma affusolata che grazie alla struttura esagonale autoportante acquista stabilità e resistenza. La base è a forma di Y particolarmente adatta allo strato roccioso su cui poggia e che sostiene i tre rinforzi della torre. A 350 metri di altezza lo Sky Pod, un edificio a sette piani, ospita il ristorante girevole e le piattaforme panoramiche. Lo Space Deck è una piattaforma panoramica a 446 metri di altezza. La torre ha una base a Y, ciascun elemento verticale svetta verso l'alto fondendosi in un elegante pilastro esagonale. Sono stati usati 40 metri cubi di cemento, 4960 tonnellate di acciaio d'armatura e 606 tonnellate di acciaio strutturale. Gli impianti di servizio sono in un vano tra i pilastri. L'antenna tv e radio è stata prodotta in 36 sezioni e venne assemblata con l'ausilio di un elicottero. Per i più atletici ci sono ben 1776 gradini che portano al ristorante in cima. Alcune curiosità. L'Edge Walk è una piattaforma che permette di cimentarsi in una camminata a mani sul profilo più alto della torre ad oltre 350 metri di altezza. I visitatori, assicurati con specifica imbragatura, possono passeggiare ai limiti del precipizio su un ciglio di appena 150 centimetri di larghezza e perfino sporgersi nel vuoto. Il ristorante compie un giro completo di 360 gradi in 72 minuti. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!